Ciao a tutti, ecco la sua Francesco! Come ci si accorge che un pianoforte è sonato, a parte con gli insulti degli haters nei commenti dei miei video che mi dicono che è stonatissimo il pianoforte? La prima cosa è sentire gli unisoni, quindi basta fare... Che si sente un po' già questo... E come mai un unisono può essere scordato? Non è una sola nota? Ci chiederanno... No, poi adesso proseguiamo... Questa è molto fuori, senti? Sentite come balla! Ecco! Questa! Quindi, semplicemente provare nota per nota, questa... E già questo è indice che il piano si è mosso! Anche qua! Questa è la cosa più semplice, sentire nota per nota deve essere pulito, senza battimenti. Cos'è un battimento? Un battimento è quando due corde, diciamo, della stessa altezza, una delle due, è o calante o crescente, e si creano questi battimenti. Noi ne sentiamo fino a forse a 15, poi incomincia a diventare... Sembra che ci sia un'altra nota sotto, non è più la stessa nota, sembra... E quindi, però possiamo vederlo un attimo in un altro sistema... Ogni tasto è collegato a tre corde che suonano la stessa nota... Quindi, qua ci sono tre corde, una, una, due, tre... Quindi, il pianoforte ha proprio questa caratteristica, ogni tasto è collegato nel registro da centrale, da medio-basso ad acuto, a tre corde identiche. Poi nel basso, invece, le corde diventano due, perché sono più spesse e hanno più suono. Quindi, allora, dunque, questo qui, prendiamo questo Do qua, ad esempio, allora... In quel modo isolano la corda con quello? Sì, ho isolato una... Praticamente adesso ci sono due corde che suonano, mi ho isolato una, perché sono tre, con questo isolo una corda, e ce ne sono due che suonano. Allora, questo è un suono, diciamo, fermo, se io alzo una delle due in frequenza, senti come batte... Qui ci sono tre o quattro battimenti al secondo. Ora, io adesso perché questa torni... Qui... C'è ancora uno... Uno andata... Quindi bisogna sentire che non ci siano battimenti. Qui si sente molto, allora io vado a capire qual è delle due che sono fuori, diciamo che queste due qua non sono perfettamente in frequenza, con la stessa frequenza, qui proprio tanto fuori, oh che gioia, è un piacere fisico quando poi torna a essere norma. Esatto. Allora, questo è la prima cosa da provare e poi dopo si prova anche le ottave, per esempio si prende, che ne so, un fa, diciamo che più o meno c'è ma è qualcosa nuovo e poi si prova l'ottava sopra e sentire completamente fuori. Esatto. Perché una nota può essere anche da sola perfetta ma in relazione all'altra. Allora, io adesso metto il cuneo di gomma in mezzo a due corde in modo che ne suona una sola. Stessa cosa faccio qua, posso metterne uno in mezzo oppure due, uno da a destra e uno a sinistra in modo che suona soltanto la corda di destra, scusa, la corda di sinistra. Sentite? Ora, io capire quale dei due devo tirare comincia a diventare complicato perché devo capire di queste due qui qual è la nota giusta di frequenza. Allora, o faccio una prova con una quinta o una quarta, se sento che qui sono abbastanza a buono, provo questa, mi sembra che questa qui è più fuori, però ancora non è detto che sia quella comunque giusta. Comunque, io cosa faccio? Faccio così, provo, qui mi pare che ho isolato quella lì di destra ma facciamo una cosa per semplificare, anche qui metto due cuneo, una a destra e una a sinistra e abbiamo la nota di mezzo che suona. Io per capire adesso muovo questo e sento che questa qui è crescente rispetto a quella. Ecco. Allora, tanto per vedere se è scordato, bisogna provare come abbiamo detto. Ok. Non per notare sentire che se ci sono dei battimenti a quel punto lì uno può anche mettere a posto all'unisono la nota che si è mossa un po'. Questa qua, ad esempio. Ora, qual è la nota delle tre corde da mettere a posto? Uno potrebbe provare. Prima a isolare la corda centrale, quindi metto un cugno a sinistra e uno a destra. Poi metto la stessa cosa qui, due cugni, uno a destra e quindi suonano le due centrali. E provo. Questa qui è già fuori, una delle due fuori. Allora, però proviamo a mettere adesso il cugno in mezzo, quindi suona solo quella di sinistra. E' già un po' meglio. Adesso provo a fare quella di destra. Questa è proprio fuori tanto. Quindi, quale toccare? Quella che sembra che va meglio. Non è proprio perfetta. E quella di sinistra. Quindi mi baso su quella. Rispetto a questo. Quindi metto a posto. Metto a posto questa. Non è perfetta, però più o meno abbiamo capito quale che dobbiamo toccare. E questa nota qui adesso va bene. Ma non è proprio perfetta. E' perché qui è tutto scordato. Certo, certo. Quindi... In questo caso è impossibile fare un lavoro di fino. Bisogna fare il lavoro di fino. Ma se vogliamo mettere a posto solo quella nota lì, cerchiamo di capire quella che si avvicina di più tra loro. Quindi questa è più vicina, sono abbastanza a posto. Questa è più fuori. Quindi io, per logica, aggiusto questa. Quella di destra. E va già bene. Certo. Ora, dire che... No, ma è complesso fare questo lavoro anche perché... Vedi che l'ottava è fuori, però. Se qualcuno comincia a muoverne una, poi l'altra va fuori. Cioè, bisogna anche chiamare un accordatore. L'ottava è fuori, però. Cioè, a meno che non sia proprio una nota che per qualche motivo si è... Perché la caviglia magari ha dei problemi. Ma infatti adesso era per far capire. Certo, certo. Per capire se è scordato basta sentire nota per nota. Se incominci a sentire che gli unisoni non sono... Se si muovono appena appena, dici, ma sì, per un po' la farò accordare, per carità. Però va ancora bene. Quando senti proprio delle note che incominciano a fare così, lo senti sugli unisoni. Certo. E poi la domanda che mi fanno sempre è... Ogni quanto bisogna far accordare il piano? Ah beh, almeno, almeno una volta all'anno. Poi, diciamo, chi lo usa parecchio, oppure ci sono degli ambienti che l'igrometria... Cioè, l'ambiente ha molte... Sbalzi di umidità. Sbalzi di umidità. Bisogna farlo ogni sei mesi, nelle due stagioni di accordare. Dopo che hanno acceso i termosifoni, un attimino dopo. 15-20 giorni dopo, in modo che si è assestato l'ambiente. E dopo che le hanno spenti. Anche lì, dopo 10-15 giorni che si è stabilizzato l'ambiente, si deve accordare. L'umidità dovrebbe andare dai 50-60, più o meno? Anche 65, va bene. 65-66-67 è accettabile. Se superiamo il 70%, comincia a essere un po' troppo umido. Se sentiamo sotto i 50, 48-49-47... È troppo secco. Siamo proprio al limite, ma dopo incomincia a essere troppo secco. Ma il range è 50-65. E poi un po' di tolleranza sopra e sotto c'è, ma non troppa. Certo, certo. Bisogna intervenire con un umidificatore o un deumidificatore. L'aria condizionata può far male al pianoforte? L'aria condizionata diretta, sì. Se si può... Bene. L'igrometro vicino al pianoforte che ti dice com'è l'ambiente. Allora, l'igrometro, la temperatura anche, ma sappiamo che la temperatura ormai andiamo a 19-20-21 gradi è accettabile. Comunque, di solito ci sono questi misuratori che c'è, la temperatura e l'igrometria, l'igrometro. Non ci interessa quello esterno, ma quello interno. Allora, con un igrometro anche quando metti in funzione l'aria condizionata, tu controlli se c'è subito uno sbarcio repentino. Allora bisogna capire come. Perché quello scorda, eh? Certo. Gli scorda. Certo, e comunque non si può fare a meno. E poi chiaramente, lontano da fonti di calore, lontano dal sole diretto, queste sono le cose più importanti. Sì, infatti quel termosifone rimane sempre spento, quello lì che c'è lì. Ah, ecco, non l'ho visto. No, no, rimane sempre spento. Il fatto che da queste finestre ovviamente arriva il sole di pomeriggio e devo usare la fine latte. Vabbè, copri con una tenda e sei posto. Esatto, esatto. Come vedete l'umidità è perfetta, è al limite del... Vabbè, 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 vabbè. Va bene. Allora. Diciamo che essere più alta, anzi 62 in questo momento, essere più alta è meglio che essere troppo bassa, giusto? Sì, questo è perfetto. Troppo basso vuol dire poi 30-32%, quindi negli alloggi d'inverno si trova anche quella roba lì. Quello è veramente... È riscoso perché... È riscoso perché... Rimane instabile da matti e addirittura col tempo può anche percarsi la tavola. Può creparsi la tavola, per carità. Invece quando è tanto alta... Si scorda ma non si rompe. Tende a crescere. Potrebbe anche ogni tanto, può anche succedere che se è tanto tanto alta l'umidità, che salti qualche corda perché la tavola armonica gonfia. Certo. E la frequenza si alza. Allora, qui adesso metto questa striscia che mi isola le corde, nel senso che suona soltanto quella centrale. È più o meno il principio di quei cugni che abbiamo visto prima, però questo è più comodo perché lo fa una volta per tutti. Sì, esatto, perché se no quei cugni ce ne vorrebbero parecchi da mettere. E in questo modo tu puoi ottenere l'accordatura di una singola ottava e poi ripeterla su tutte? In questo modo adesso ti faccio vedere, la cosa più semplice è partire con la frequenza che dobbiamo decidere di fare. Allora, andiamo avanti ancora un po'. Mentre resta soltanto la parte centrale per fare il temperamento. Ah! E poi dopodiché, il resto, come dici tu, andiamo avanti poi con le ottave. Cosa vuol dire fare il temperamento? Fare il temperamento vuol dire che io devo fare lo scomparto. Il temperamento è scomparto, io mi do una frequenza e da lì devo fare il temperamento e temperare tutte le note, le dodici note che siano temperate una con l'altra in modo che abbiano un senso. Certo, è il punto di riferimento poi. Esatto. Di affasso. Che mi sembra, non so se riesco a far te lo sentire. Ah, perfetto. È il suo perfetto mostro. Mi senti i battimenti? Sì. E poi sono questo. Quindi, se io, stando al mio, te se sembra che sia crescente, ma se ti dico che invece potrebbe essere calante. Senti, c'è questo. Allora, senti questo. Senti questo. Quindi, ma è buono, eh? Quindi io faccio. E adesso facciamo che abbiamo deciso che questa è la frequenza. Incomincio a fare la cosa più semplice, quarta e quinte. Fasso una quarta. Che deve essere, la quarta deve essere sempre crescente e la quinta calante. Perché se no si arriva a non riuscire a fare il temperamento equabile. E questo è il temperamento, esattamente. Fare le quarte larghe e le quinte strette. Tanto per capirsi. Quindi, senti quanto cresce. Perché cosa succederebbe se facessimo quarte e quinte perfette? E poi dopo, a un certo punto, si crea una nota che si chiama la nota del lupo, che è una nota che va completamente fuori. Quindi tu puoi suonare soltanto in una o due tonalità. Certo. Uno di quelle lì, non lo suono. Però ci sono degli accordatori professionali. Che io ne ho anche uno, tra l'altro, perché quando devi fare 5 o 6 pianoporti al giorno, o 7 o 10 nel conservatorio, ti danno una mano per fare prima. Perché tiri su, poi. A noi cosa rimane? Rimane solo più a gestare quel pelo che vuoi gestare tu. E va benissimo. Però ti aiuta perché se si muove qualcosa, fai prima a trovarlo. Se non ogni volta, devi provare. Quindi con quello fai subito una cosa veloce. E che differenza c'è tra farlo con la macchina e invece a orecchio, un pianoforte? Allora, con la macchina, quello che crea la differenza è che col tuo orecchio, se vuoi dare un qualcosa di, diciamo, di... Allora, a un certo punto la disarmonicità del pianoforte si crea una disarmonicità, perché ogni pianoforte è disarmonico rispetto all'altro. Sia per la lunghezza delle corde, il diametro, la tensione, insomma, ci sono vari motivi. La costruzione stessa dello strumento, addirittura la qualità della tavola armonica. Un accordatore elettronico professionale fa un calcolo matematico. standard, però lui ti calcola magari, se vuoi te lo faccio vedere come funziona. Questo accordatore qua, anche io, hai la possibilità di fare tu la tua accordatura a orecchio e poi dopo la puoi memorizzare, così hai il lavoro più facilitato la volta dopo. Adesso vado a vedere se qui, in quelli che io me ne sono fatti nel tempo, c'è quello lì, l'RX2. Vado a cercarlo, quindi vado su. Dato che io lavoro tanto con il... con il... con il... con il... con il cavai. Ce n'è tantissimi nel conservatorio di Cuneo. Questo qui faccio l'OAD, lo salvo. E adesso qui abbiamo lui. E come va importante che sia lo stesso modello? Eh, proprio per quello, stessa lunghezza, stesso diametro. Io so che questo qui e questo... l'RX2 sono fatti tutti così. Quindi, una volta che ne ho fatto uno, adesso chiaramente, più o meno, ehm... non guardo l'anno, ma certo che se sono passati trent'anni da uno all'altro, magari me lo faccio di nuovo. Quindi ne ho uno, più ne ho uno. Ma l'RX2 è stato fatto per un certo periodo, quindi sono tutti uguali. Completamente tutti uguali. Stessa lunghezza, stesso diametro di corde, sia dei bassi che degli acuti, eccetera. E quindi è uguale. Allora, sono sicuro. Adesso vado a sentire. E dicono da calante. Di solito si chiede anche, come vuoi la frequenza? Lo standard è 4,40. Però in Rai, con l'orchestra, eccetera, chiedono sempre 42. Ah! Sì, sì, in Rai è di standard 42. In Rai, che l'accordo spesso, in Rai è 42. Però, perché con l'orchestra... Però quando io mi trovo... Perché con l'orchestra dovrebbero volerlo 4,42? Per gli archi, eccetera. Ah, gli archi sono più alti? Sì, sì, vogliono 42. Ma minimo, eh. Allora, cosa voglio dirti? Quando io faccio un'accordatura per un concerto solo per pianoforte, se non ti chiedono, beh, solo per pianoforte, attenzione, di solito non ti chiedono la frequenza. Raramente qualcuno, potrebbe essere il soccolo della situazione. Adesso vediamo con Margaret cosa vuole. Marta, Margaret... Marta, 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 Marta. Marta, sì, Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Dunque, bisogna vedere perché... Soklov lo vuole più alto? Ma, non lo so, di solito, se è 4,40, non dice niente, però potrebbe chiedere 42. però io dico questo quando sei col piano solo non vedo questa perché questa cosa qui anzi preferisco 40 che suona per me il piano suona meglio perché la tavola armonica è meno soggetta a tensione quindi è più bello addirittura 432 è bellissimo la frequenza 432 è molto bella quindi quando si con l'orchestra bisogna sempre capire o anche un gruppo jazz eccetera capire cosa voglio quasi sempre il jazz preferisce il 440 l'orchestra sinfonica con pianoforte quindi l'orchestra con pianoforte 442 99 su 100 invece quando il piano solo se io mi trovo un piano che a 440 lo accordo così se a 42 lo lascio così se a 41 lo lascio così non vado a toccarlo anche perché siamo sicuri che è stabile si l'ho trovato già più o meno così e lo accordo così va bene questo è la frequenza qui abbiamo un 440 leggermente crescente o un 441 leggermente calante questi sono proprio i trucchi per fare l'accordatura cercando di fare una cordatura più stabile possibile ecco che questo ti dà comunque una mano in questo senso qui da una grossa mano certo e poi adesso ecco questo qui e poi da qui allora adesso dobbiamo 441 ormai oggi come oggi tutti gli accordatori usano come come frequenza elettronica così non ti sbagli io adesso ti ho fatto vedere qualcosa però fai prima così poi dopo accordi come vuoi poi puoi anche accordare con lui no così come faccio io e puoi fare sempre avere se vedi adesso questo l'ho tirato a orecchio però vedi che è giusto e poi lo sento se non mi piace lo tocco allora io ho fatto la re adesso il re per me va bene e faccio la quinta la senti come batte? si allora vado la tiro perché sarà calante adesso ho tirato tantissimo comincio a scendere questa qui questa mi sembra buona vedete guarda un po' guarda un po' e beh sono bravo bravissimo va bene adesso faccio ti lascio accordare grazie Francesco questo è proprio il trucco non fatelo a casa perché uno tutti i trucchi che fa l'accordatore qual è il problema? solo questa domanda perché io lo so se ci si mette a casa e si prova succede un pasticcio perché poi allora l'unica cosa che consiglio se hai una chiave dico sempre fate mettete a posto solo gli unisoni senti che quello ti dà un po' fastidio cerca di capire qual è la corda che è da tirare o è crescente da mollare di solito è da tirare e metti a posto quello esatto perché se no se cominci a fare così vedi non esce più si non se ne esce più ci si trova tutto il pianoforte scordato e poi Francesco aiuto esistono anche le ottave un po' larghe per dare più volume più sonorità al pianoforte quindi quando fai questo se vuoi allargarlo un po' gli dai un'idea di battimento in più ma proprio un'idea un battimento diciamo che sarebbe un 25 chance vuol dire che io in un secondo in quattro secondi sento un battimento l'ho diviso in 25 parti se in due seco in un secondo cioè scusa in due secondi senti un battimento in due secondi vuol dire che hai mezzo battimento crescente ok capito funziona così quindi i secondi in base ai battimenti certo quindi quando non c'è battimenti è giusto quando tu senti un battimento in un secondo vuol dire che c'è il crescente di un battimento al secondo se c'è un battimento in due secondi è la metà certo quindi quando tu vuoi allargare un'ottava potresti metterti lì e sentire che ne sono quattro secondi e senti quest'onda ok dopo quattro secondi tu hai fatto un'ottava larga ma larga ma bella perché così senti però la senti che che viaggia comunque che viaggia da movimento bellissimo stupendo grazie ciao a tutti ciao 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 ciao